Carix la palla in area a Cristaldo, con il destro Cristaldo, subito l'occasione, la parata di Neto e attenzione a Quadrado, sterza e caccia in porto da lontanissimo qui rischia il Bologna, perde il pallone, Ilicic al limite, c'è da spazio per il sinistro, Ilicic primo gol in viola per lui, 1-0 Fiorentina, al tredicesimo un lampo di Ilicic a pulire Bologna Borcavalero tiene il pallone, può andare Quadrado in porta, gran passaggio, Quadrado, tutto solo, Quadrado si tifona, il gol del raddoppio la Fiorentina qua incontro Mati Fernandez, la palla per il Cileno con il tacco, grande giocata, c'è Giuseppe Rossi che può colpire, Rossi Rossi mette giù con eleganza, Borcavalero si propone, Borcavalero con un controllo splendido che gol, Borcavalero sull'assi di Rossi, 2-0 Fiorentina, quinto da l'istazione dello spagnolo alla gira, primo palo, la prolunga Tomovic, Rossi prova con il tacco qui Rossi, Rossi con il pallonetto, un gol fantastico, torna il gol dopo quasi due mesi su azione Giuseppe Rossi, 13 in campionato Vargas al limite, aspetta il movimento di Quadrado, poi calcia, deviazione Conè controlla a seguire, poi calcia forte, metto il calcio da me Palla torna, Diamanti, lì potrebbe anche calciare, buon lavoro di Rebic, Diamanti difende il pallone poi calcia in porta della Rocca, poi Bianchi, finisce alla Franchi, la grande Fiorentina Travolge il Bologna, 3-0